Di ora, c'è una notte un caso di attraco. È quello che è stato registrato nella sabana Hundo. Qui è stato cammino con un nome di 10 somber. L'amore è arrivato a un snack di mananza con un'arma che ha ottenuto la pertenenza a un bai con il sito. L'amore è arrivato ad alcun cliente che ha ottenuto il potmone e il telefono cellulare a un bai con il bai con il sito. Il tipo di una cosa che ha fatto un flat screen che ha ottenuto il snack di quale il bai con il sito. Polizia non abbai ha s'inbuschato da denghe area, però è area aki mirando con su quetà nobilo grato pa qu'è tipo nang attraco. In todo caso, investigazione, palo che trate caso aki, ta continua.